in diretta buongiorno a tutti allora al solito io verifico che vada tutto bene se per chi è connesso mi dà un piccolo rimando su se funziona il microfono se va tutto bene sono in negozio quindi potrebbero esserci un po di rumori sottofondo intanto che aspetto un po che si connettono tutti ci occupiamo della parte tecnica si sente bene grazie laura una volta è successo che non si sentiva niente con il suo panico allora bentornati oggi è lunedì e lunedì e dei libri raccontiamo delle nuove letture consigliamo dei libri facciamo dirette perché mi piace molto l'idea che possiate partecipare anche voi farò il possibile per leggere i vostri commenti mentre leggo i miei appunti dunque io oggi in realtà avevo preparato un'altra una recensione per un altro libro però questo weekend ho letto un libro meraviglioso e quindi visto che adesso la lettura ancora calda ho pensato di portarlo per questa recensione del lunedì un libro meraviglioso un libro coamato divorato ho capito dal primo capitolo che mi sarebbe piaciuto tantissimo un autore che non conoscevo tra l'altro stupendo e mi ha fatto un po questa impressione che devo dire da un po che non provavo leggendo il libro di una sorta di senso di malinconia di dispiacere per aver abbandonato i personaggi no un po come quando tipo vai in vacanza e devi salutare gli amici e sai che tutto l'anno non li vedrai più e quindi provi un misto di gioia e malinconia gioia per quello che avete vissuto tutta l'estate e malinconia perché sai che non li vedrai più se dicessi queste cose a altre persone mi prenderebbero per pazza ma se stai guardando questo video vuol dire che sei una lettrice o lettore e quindi capisci bene questa sensazione di malinconia per cui quando è finito il libro ti dispiace di averlo finito libro stupendo che vi consiglio oggi è questo la storia di un matrimonio l'autore Andrew Sean Greer questo è uno dei miei acquisti al salone del libro di torino e quindi non vedevo l'ora di leggerlo tra l'altro pensavo quando l'ho comprato che c'entrasse con il film che è uscito su netflix di recente omonimo invece non c'entra niente meno male questo è molto 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 più bello non conoscevo niente di quest'autore Greer adesso che l'ho scoperto devo assolutamente cercarmi qualcosa so che ho vinto diversi premi con altri romanzi e questo non lo so ma potrebbe assolutamente essere una scrittura davvero poetica cercherò di raccontarvi questo libro io mi sono appuntata 5 macro temi come al solito un po per seguire il filo ma cercherò di raccontarvelo senza in realtà raccontarvelo troppo nel senso che l'abilità di questa scrittura di questa narrazione è proprio quella di non di svelare delle cose piano piano che si procede infatti vi consiglio di non andare su google a cercare la trama perché altrimenti vi spiattella tutto e perdete il gusto della scoperta cosa che invece sapientemente ad elfi nella quarta di copertina non fa vi propone questo libro senza veramente dirvi perché è dire greer praticamente piano piano ci dà delle informazioni ma anche essenziali ai fini narrativi oppure essenziali sui protagonisti sui personaggi che tu dici pensi come ho fatto finora a leggere questo testo senza avere questa informazione qua cioè tu non mi hai detto una cosa delle cose fondamentali eppure la narrazione reggeva lo stesso cioè c'è proprio una volontà di raccontarti certe cose quando arrivi a un grado di anche conoscenza dei personaggi specifico e quindi questo mi è piaciuto tantissimo questo senso di scoperta e legge dici no 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 tipo un giallo non lo so che non c'entra niente col giallo questa è la storia di un matrimonio parla di relazioni parla di amore parla di dolore parla di una coppia fondamentalmente parla di famiglia eppure ha questa questo aspetto intrigante della scoperta è come se questo libro fosse una cipolla strato dopo strato arrivi al cuore dei personaggi arrivi al cuore della storia al cuore della storia di un matrimonio stupendo e questi personaggi questi protagonisti sono così veri così vividi anche personaggi che crescono nel corso della narrazione che appunto ti sembra di conoscerli davvero e ti dispiace abbandonarli c'è la protagonista pearly cook che è la nostra voce narrante un personaggio una donna meravigliosa poi c'è il suo grande amore il marito holland e poi c'è il piccolo sonny il loro figlio che poi crescerà poi ci sono queste due improbabili zie simpaticissime un po' pettegoli un po' invadenti con questo gusto un po' macabro per le tragedie che danno proprio un gusto anche divertente a questo racconto e poi c'è Buzz che è un personaggio che arriva dal passato e che porta assieme a lui un grande un grande segreto la storia si svolge a San Francisco dall'immediato dopo guerra dal 45 al 55 il noccello in cui succedono le cose più importanti che riguardano questa famiglia ma poi ci sono dei flashback antecedenti a questo lasso di tempo e anche dopo quindi la cosa bella è che noi vediamo crescere questa famiglia fino alla fine la cosa particolare è che gli avvenimenti raccontati sfrecciano e si susseguono attorno a un perno fisso che è la casa, è la dimora di questa coppia di Pearlie e Holland questa casa, capiamo, povera, piena di spifferi che avrebbe bisogno di tantissimi lavori con degli arrampicanti questa casa che ha visto così tanto di questa famiglia proprio il caso di dire se i muri potessero parlare quindi è protagonista, è un punto fisso mentre tutto il resto cambia cambia la storia dell'America, cambia la storia dell'umanità in questi anni cruciali dal 45 in poi eppure questa casa rimane un po' sullo sfondo come punto perno fisso di riferimento così importante per questa famiglia e la cosa che mi è piaciuta tantissimo però non so se l'ho immaginata solo io mi direte se avete letto questo libro che sembra come se la descrizione, come se gli oggetti della casa guardassero quello che tu stai leggendo e facessero un'inquadratura da quell'angolatura là da quel punto là come se il tappeto, il tavolo, l'uscio, la porta guardassero la scena che si sta compiendo che noi stiamo leggendo e non so dirvi perché mi ha dato questa impressione il tipo di scrittura di Greer però mi è piaciuta tantissimo è come se avessi proprio visto un'inquadratura da quella parte lì dalla casa che alla fine è davvero se potesse parlare saprebbe tutto di noi i personaggi non rimangono mai uguali a loro stessi evolvono, maturano e sono sia le cose che accadono fuori di loro a portarli a una evoluzione sia le cose che accadono dentro di loro beh, fuori di loro il grande tema costante che si conficca come scheggio di vetro in questa narrazione è la guerra a cui Holland ha partecipato e anche Buzz un grande tema è anche lo stress post-traumatico successivamente ai dolori alle sofferenze della guerra e poi grandi cambiamenti che dagli anni 40 agli anni 60 hanno interessato l'America e anche il mondo quindi si parlerà tanto di femminismo il ruolo della donna si parlerà tanto di omosessualità di segregazione razziale di razzismo tantissimi temi molto forti molto importanti anche la trasformazione dell'America dell'americano quindi tutti questi temi grandi forti condensati attraverso la storia di questa famiglia che guarda dalla loro casa guardano questo mondo che fuori di loro cambia e quindi inevitabilmente fa cambiare anche loro e poi dicevo anche dentro di loro un grande cambiamento perché vi dicevo dal passato arriva un segreto una bomba nucleare che questa coppia deve imparare a gestire e inevitabilmente porterà a dei cambiamenti a delle grandi scosse riuscirà la nostra coppia a rimanere innamorata a salvare la famiglia a salvare il matrimonio lo saprete se deciderete di leggere questo libro un altro tema molto bello è il senso del tempo la cosa bella è che vedi praticamente un po' la vita di questa famiglia da tipo c'è il sonico piccolino e poi diventa grande così le zie diventano anziane loro diventano anziani quindi segui il loro trascorso e quando arrivi alla fine quando hai una prospettiva un po' più dell'anziano che si guarda indietro nel tempo capisci quanto quella cosa lì che sembrava quando eri così giovane così grande così insormontabile quando poi diventi anziano e ti guardi indietro nel tempo diventa un po' un piccolo tassello di un grande dipinto e questo mi è piaciuto tantissimo questa prospettiva la letteratura spesso ci insegna questo comunque tante volte diamo tanta importanza a qualcosa che nell'arco di una vita può essere ridimensionata ci aiuta a ridimensionare i problemi e forse anche dare più importanza a certe cose piuttosto che altre questi i protagonisti raggiungono questa consapevolezza e quindi di riflesso anche anche noi ecco c'è anche questo aspetto che sempre riguarda il tempo il suo trascorrere il tempo che passa è molto malinconico questo questo racconto un po' dolce amaro è malinconico perché soprattutto la protagonista ci sono proprio dei momenti in cui si guarda dall'esterno e si rende consapevole che ci sono dei momenti che non torneranno più quindi si guarda quando si era innamorato di Holland per la prima volta o quando era adolescente nella sua cameretta quando era new mamma quando ha avuto il suo figlio per la prima volta insomma tutti i grandi traguardi della sua vita si guarda dall'esterno e capisce che quell'attimo lì non arriverà più è un tempo perduto però anche in questa consapevolezza cerca di come dire richiamare la ricchezza di quel momento del qui ed ora quindi su questo l'ho trovato squesitamente dolcissimo ecco un altro grandissimo tema di questo libro che aleggia sopra le teste dei protagonisti pronto a sfrecciare come una lama e fare disastri è la non comunicazione è pieno di non detti tra l'altro è una strategia narrativa perché anche il narratore come lo scrittore come vi dicevo prima non dice certe cose ce le dice a un certo punto quando vuole lui e così anche i personaggi non si dicono delle cose importantissime e ti arrabbi con i personaggi e gli vuoi dire ma parlagli perché se glielo dicessi il problema si dimezzerebbe invece come la maggior parte dei problemi che si hanno nelle relazioni cioè il 90% delle volte che si litiga all'interno di una coppia o in famiglia tra fratelli lo sappiamo perché o non si comunicano bene le cose o perché proprio non ci si parla ecco Pearlie e Holland e tutti gli altri personaggi non si parlano e c'è un po' mi è venuta in mente questa cosa perché effettivamente loro potrebbero essere un po' i nostri nonni hanno 20 anni nel dopoguerra e ai nostri nonni non è che gli si insegnava molto a parlare nel senso che adesso ci insegnano a comunicare a tirare fuori le nostre emozioni i nostri sentimenti una volta non era così in uso questa cosa si stava insieme e basta e spesso quando c'era un problema non se ne parlava ecco questo è lampante in questa storia e capiamo quanto il non detto anche qui un altro grande insegnamento della letteratura lo ritroviamo in tantissimi esempi in cui quando non ci si comunica le cose quando ci sono i non detti se non si risolvono subito se non si toglie subito la stazione nella scarpa questo non detto diventa una montagna insormontabile ecco io ve lo consiglio è un libro veramente bellissimo un libro poetico tra l'altro avevo cominciato a segnarmi le parti belle perché ci sono proprio delle frasi che mi sono fermata e ho dovuto rileggere tanto erano belle ma poi ho capito che avrei praticamente dovuto mettere un po' stetto ogni pagina quindi mi sono fermata perché è veramente veramente una piccola poesia mi è piaciuto lo consiglio tantissimo la storia di un matrimonio fatemi sapere nei commenti se l'avete letto tanto guardo se mi avete scritto qualcosa magari già lo conoscete è una uscita abbastanza recente controllo perché non ho guardato assolutamente i commenti mentre parlavo conoscete magari qualcosa di questo autore ho visto che ha scritto un romanzo che si chiama Les per cui ha vinto numerosi premi e quello sicuramente me lo devo recuperare perché mi ha proprio basta mi sono innamorata di questo autore no però non vedo commenti bene non ho saltato nessuno bene allora io vi posso salutare spero vi sia piaciuta questa piccola recensione fatemi sapere se ho dimenticato qualcosa approfitto per dirvi questo nella nostra nel nostro canale youtube adesso riesco a mettere le nostre dirette registrate per una volta c'erano i video consigli c'è una playlist anzi se vi incuriosisce vedere qualche recensione volete qualche consiglio sui libri da leggere trovate una playlist che si chiama il libro della settimana e quindi potete sfogliare tutte quelle che finora abbiamo registrato abbiamo iniziato ai tempi della pandemia e siamo arrivati ad oggi però adesso da poco stiamo facendo le dirette per cui ho cercato di farmele scaricare dai nostri esperti per metterle anche sulla playlist quindi questo perché ci sono molti nostri clienti che non hanno instagram e quindi in questo modo possono seguirlo quindi approfitto per dirvi che abbiamo anche questo canale sempre di mano in mano e se volete sostenerci seguirci ci fa tanto piacere e ci aiutate tanto intanto grazie di averci seguito tantissime fantastiche letture come sempre non ci sarà la diretta la prossima settimana perché questa settimana c'è lo Luke Reed che sta monopolizzando tutte le nostre energie per cui salta e ci vediamo quindi il lunedì successivo grazie alla prossima